Cazzo, ma è giusto o non è giusto? Non so, ma è giusto baciare le fan? Non so, secondo me sì, forse no. Meglio chiedere un consiglio, ho un consiglio a chi ne sa veramente. Max, Max Felicitas. Pronto? Pronto Max, tutto a posto, disturbo? Ciao Andrea. Ascolto, volevo chiederti una roba, ma secondo te è giusto baciare le proprie fan? Ma guarda, è impossibile che qualcuno pensi che baciare le proprie fan sia sbagliato, ma ti spiego anche perché. Il bacio è un gesto d'amore, quindi dobbiamo condannare gesti come pugni, sberle, ma non il bacio. Anzi, quello che ti posso dire io da parte mia è che da ora in poi le fan non devi solo baciarle, ma devi proprio limonarle e eventualmente, insomma, devi rendere sempre felici le tue fan. Perché questo è il compito di chi intrattiene le persone, è giusto anche diffondere l'amore sulla propria fanbase. Ma poi c'è nel senso, te sei un ragazzo giovane e quindi immagino che chiunque quando era giovane avrebbe sognato di vivere, diciamo, questa forma di visibilità assoluta in cui puoi rendere felici più persone mediante solo il tuo stare assieme alle tue fan. Quindi chiunque avrebbe sognato questa cosa e quindi chi se la ricrede, secondo me, un po' se la invidia. Ma poi dipende anche dal personaggio che uno si crea, no? È ovvio che te ti sei creato un personaggio che è proprio amato dalle ragazze, insomma. Cioè nel senso, sei proprio seguito proprio una fanbase, principalmente di ragazze, che ti segue... Adesso non so perché, come tutti sanno, mi piace la figa, però nel senso non so se perché sei figo, perché... Non so, è figo il tuo modo di parlare, è figo il tuo modo di fare le foto, questo non lo so. Però comunque hai creato un seguito di ragazze e questo è il tuo personaggio. Poi c'è chi si crea, magari è un calciatore, quindi ha il suo seguito di maschi che lo seguono perché fa calcio. Ognuno ha la fanbase che si crea. A te hai una fanbase di quel tipo e che quindi vuole essere accontentata in una determinata maniera. Mentre chi invece è un calciatore ha una fanbase che vuole che venga accontentata tramite, non so, firmarle il pallone, regalargli gli scarpini, regalargli i calzetti. Adesso non so perché non seguendo calcio non saprei neanche come aiutare, come devono, diciamo, relazionarsi i calciatori con i propri fan. Quindi il mio messaggio definitivo è quello di non sentirti male perché hai dato, insomma, questo bacio, questi baci, adesso non so quanti ne hai dati, ma sempre nel rispetto di quella che è la legge, di quella che è l'intenzione di tutto. Cioè nel senso, anch'io le fan donne e anch'io le bacio, ovviamente, avendo io 25 anni, le bacio solo nel caso siano maggiorenni, ma infatti, cioè nel senso, appena una mi scrive, la prima cosa che gli chiedo è quanti anni hai. Questo ovviamente sempre nel rispetto delle leggi, sempre nel rispetto del decoro. È ovvio che le ragazzine al massimo le saluto, gli dico grazie di seguirmi, grazie di tutto, però non posso fare altro, ma anche perché sì, nel senso, non mi piace neanche interlazionarmi in certe situazioni con un ragazzo più piccolo di me, non mi è mai piaciuto. Mentre te alla fine che hai 16-17 anni, nel senso, puoi divertirti, ma come hanno fatto tutti alla tua età, cazzo, cioè nel senso, è inutile che stiamo a riderci dietro, cioè, a quell'età lì uno, sì, è l'età dell'adolescenza, uno si fa casino, si diverte, cioè, è normalissimo. Quindi, il messaggio è questo, non pentirti di un cazzo, le fan, se te lo chiedono, se siamo sempre nel decoro, nel rispetto delle regole, di tutto, baciale assolutamente, fai le foto mentre le baci, se loro lo vogliono, se te lo chiedono loro, perché non dovresti farlo? Sono tue fan, se te lo chiedono, fagli questo regalo, cioè, nel senso, gli intrattenitori del web sono qua per regalare un sorriso alle persone e sbattitene di chi ti viene contro e non mollare mai. Continua così, che stai andando forte, sempre alla grande. Ora devo andare, che il lavoro chi ama. Ciao! Bella raga, spero che il mio messaggio ad Andrea vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un bel pollicione in su. A me è tutto all'insù, però lasciate anche un pollicione all'insù. Andate a seguirmi subito sulla mia pagina Instagram nuova, il profilo vecchio me l'ha chiuso, quindi cerchiamo di far salire sto cazzo di profilo Instagram nuovo. Andate, quindi vi chiedo il favore di andare a scliccare segui a maxfelicitas.official. Seguitemi, seguitemi, seguitemi. Non dimenticatevi di iscrivervi a questo canale, che è importantissimo. Iscrivetevi a questo canale, lasciate perdere il casino che c'è in questa stanza, ma la uso per montare, per creare un'idea, quindi io nel casino mi muovo, cioè se è tutto regolare non riesco a creare situazioni di inventiva. Da maxfelicitas è tutto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, andate di nuovo sul mio profilo Instagram. Se volete vedere le cose un po' più piccate, invece andate sul mio sito, ma dovete essere maggiorenni, ricordatevi, non fate scherzi. Ci vediamo nel prossimo video, un bacio a tutti e soprattutto a tutte. Maggiorenni, ciao! No, di nuove generazioni come devono crescere? Pane e vino. No, pane e limoni. Vabbè, o vecchio! Voglio solo limonare, 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 voglio solo limonare, limonare, limonare.